La camminata di oggi prevede San Martino di Castrozza, laghi del Comricon, una camminata abbastanza semplice, però si prevede perché qua il meteo fa quello che vuole. Ieri andavano pioggia, è arrivato un temporale impressionante, un'acquazzone, ho preso una lavata pazzesca al lago di Calaita nel ritorno. Oggi davano nuvole pesanti già dal mattino, sono le nove e mezza passate, c'è un sole che spacca le pietre, però mai dire mai, come si suol dire montagne al tempo cambia rapidamente, speriamo almeno oggi non cambia rapidamente, però lasciamo fare a lui, intanto godetevi il video. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori. 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 a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori.